Maltrovati boccaloni, chi di voi non ha mai desiderato di vincere un soggiorno all'inclusive in un hotel di lusso? A volte si farebbe bene a star molto ma molto attenti a quel che si desidera, perché c'è il rischio di vedere esauditi i propri desideri nel modo più grattesco. Ti svegli in una stanza sconosciuta ma elegante, nella più totale solitudine. L'angoscia si impadronisce di te, sei vittima dei capricci di un pazzo annoiato e come te altri otto sventurati sprovveduti che non si sono iscritti al canale del Mangiamovie. E perciò adesso dovranno scoprire a loro spese come sconfiggere gli altri rivali nel gioco malato del film House of Nine. Boccaloni maledetti, maltrovati a tutti meno che a Bernardo Baldacciarri. Com'è possibile che ogni volta che presto ascolta i vostri cosiddetti consigli poi debba pentirmene amaramente? Avevi ragione Bernardo, questo film è pieno di boccaloni, ma questo è davvero l'ultimo problema di questo film. Vi dico solo che non lo conoscevo e avrei preferito continuare a non conoscerlo. Ma ormai siamo qui, che cosa vi devo dire? Mi avete costretto a guardarlo benissimo. Preparatevi ad abbandonare qualsiasi strumento o oggetto di comodità presente in casa vostra, assumete la posizione più scomoda che conoscete e preparatevi per un nuovo incazzatissimo video del Mangiamovie. Una serie di immagini bluastre catturate da telecamere interne. Fotogrammi di una Londra sfocata ci conducono attraverso una sequenza di 5 interminabili minuti tra i vari punti della città per mostrarci le scene di alcuni rapimenti. I malcapitati londinesi sono ora svenuti proprio nelle stanze prima riprese dalle telecamere. Una di loro si sveglia in quella che sembra una cella ma la porta è aperta. Così si avventura all'esterno, ritrovandosi in un lungo corridoio desolato ma elegante. Trova una porta, la apre e trova dentro un ragazzo svenuto. Entra nel panico, prova a cercare un'uscita ma niente. Il portone più vicino è chiaramente chiuso e le finestre murate. La ragazza gira per minuti cercando una fuga ma deve avere qualche problema di salute o davvero pochi punti stamina. Perché dopo aver girato al massimo per due piani accusa la fatica, si accascia e sviene. Serviva un pretesto per farla svenire e risvegliare di fronte ad altri protagonisti. Per quanto i personaggi ce la mettano tutta mi viene difficile non percepire delle vibes alla Scary Movie. È come se stessi guardando una parodia di Saw. Solo che le scene divertenti non arrivano mai. La situazione è esattamente quella che avete in mente. Tizi che non si conoscono rapiti. Tizio misterioso che comunica loro tramite interfono. Probabili prove da superare per salvarsi la vita. A quanto pare il sadico maledetto li ha riuniti lì dentro per una specie di esperimento e ovviamente solo uno di loro avrà salva la vita. Portandosi a caso alla bellezza di 25 milioni di dollari. Tutti ascoltano con i padiglioni auricolari sparancati fino all'ultima parola. Per poi iniziare a confrontarsi tra loro. Ancora non abbiamo nomi ma iniziano a delinearsi i ruoli pigramente tratteggiati da sceneggiatori svogliati. La protagonista che scommetto 25 milioni di dollari che sarà colei che arriverà alla fine del film. Il prete che secondo me si sacrificherà per salvare qualcun altro. Il poliziotto a cui i rapitori hanno lasciato una pistola per rendere il gioco più divertente. Il ragazzo nero del ghetto, cliché classico da contrapporre al poliziotto. La ragazza alla moda, amante della movide, probabilmente svampita. Una specie di alternativo con la cheffia. Altre due donne senza tratti particolarmente interessanti. E una specie di professore. Proprio il professore arriverà alla conclusione geniale. E dove per geniale intendo banale, ovvia e scontata. Ma che per il livello cognitivo degli altri convenuti deve essere geniale. Secondo lui il rapitore vuole che... Si ammazzino tutti a vicenda. Ma perché questo riccone sadico ha delle telecamere da 15 euro che neanche i VQ pra del 2005? Cosa, sei diventato miliardario con la taccagneria? Le loro profonde analisi si alternano tra... Vuole che ci ammazziamo? No, non può volere questo. Ma sì, ti dico di sì. No, non è possibile. Fino a quando il professore, che mi ricorda molto Gilles di Buffy, li convince dell'ineluttabile futuro che li aspetta. L'aria si fa attesa ancora una volta. Il fatto che il poliziotto abbia una pistola fa sospettare di lui, ma lui sa come argomentare la sua strada verso un'uscita in forma dialogica. Il gruppo prova a ingegnarsi per trovare una via d'uscita. La prima idea è quella di sfondare la porta d'ingresso con il tavolo. Ma non sono passati neanche 20 minuti dall'inizio del film. Non funzionerà mai. E infatti non funziona. Neanche sparare alla finestra murata serve a niente. Oh, ma quando arriva il primo morto ammazzato di questo film, mi sto annoiando. Beh, in compenso di cappellate ne avete fatte tante. Come per esempio sprecare un sacco di energie. Una porta di ferro chiusa dall'esterno non si sfonderà mai in quel modo. E per quanto ne potete sapere, è murata anche dall'altro lato. L'idea di mettere alla prova le finestre già è migliore. Per quanto robusti, i mattoni sono comunque meno resistenti dell'acciaio. E magari con qualche oggetto a vostra disposizione potreste iniziare un lungo processo per indebolirli e sfondarli. Servirebbe una mazza, o ancor meglio un martello. Ma non avete neanche fatto un giro del set cinematogra... Ehm, del luogo del rapimento per vedere cosa trovate. Sembra che mi abbiano sentito, perché capiscono di dover perlustrare il luogo. Ma il personaggio noto come lo sbirro ha la solita idea del cavolo tipica di questa immondizia di film. E vediamoci e perlustriamo la casa. Avete forse poco tempo? Senti il bisogno irrefrenabile di intimità? Santissimo Jason, ma perché accidenti vi dovete dividere? Si dividono tutti in gruppi di due, meno il poliziotto buono e il ragazzo in tuta verde. Rendendosi conto di quanto già sapevano e sapevamo anche noi, è pieno di telecamere. Wow! Un barlume di speranza si accende quando trovano una botola sul soffitto. È quello che sembra un buco per terra. Ma sfondandoli si viene a scoprire soltanto che erano murati. La ragazza festaiola, che mi ricorda un po' una delle Spice Girls, sembra una scansa fatiche. Ormai si è arreso al proprio destino. Trova delle bottiglie di vetro contenenti alcol e cosa fa? Le beve! Ah, bella cappellata, amica mia. Le probabilità che siano avvelenate sono del 99%. Oppure pensi che il rapitore abbia voluto dotarvi di tutti i comfort per allietare la vostra permanenza? Però a quanto pare è vero. Anche qualcun altro beve da quella bottiglia, ma ancora nessuno vomita, scagarella o muore per via del veleno. Ma già non toglie che berla resti una cappellata. Il momento è propizio per una nuova riunione di condominio. E io ancora non vedo l'ora che qualcuno passi il ponte arcobaleno lasciandosi le proprie spoglie mortali alle spalle, perché mi sto annoiando come mai primatore. Iniziano a prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di farsi fuori a vicenda. Seguono bla 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 inutili e ding ding! È pronto il pranzo! Si apre un vano nel muro contenente pollo e patate. Seguono liti per decidere quanto mangiare spetti a ognuno e, indovinate cosa, altri bla 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 vari. Da adesso le parti del film in cui i protagonisti blatterano di cose inutili ai fini della trama verranno derubricate a Lagnamovie. Così, quando dirò Lagnamovie, saprete che sono parti perfettamente schippabili e riprenderemo da dove vale la pena farlo. Il momento del pasto attorno al tavolo è un tripudio di Lagnamovie, ma una cosa degna di nota si fa per dire accade. Ossia la Spice Girl, che prima aveva deciso incautamente di tracannare alcol senza alcuna prudenza, teme che il cibo sia avvelenato. Preoccupazione che chiaramente non si era minimamente posta per l'alcol. Comunque finalmente il prete ha abbastanza buon senso da far notare che nessuno conosce le generalità dell'altro. Dunque scopriamo come si chiamano i personaggi, che tra poco vedremo passare a miglior vita. Non vi affezionate troppo. Il prete si chiama Michael, il poliziotto è Jay, la bionda è Cinzia, il professore Francis è suo marito e in realtà non è un professore ma un musicista compositore. Il tizio che prima aveva la capia si chiama Max ed è uno stilista. La Spice Girl si chiama Charlie, la protagonista si chiama Lea e fa la ballerina, la ragazza ribellina si chiama Shona ed è in libertà vigilata, perciò ha un geolocalizzatore. E in ultimo il ragazzo in tuta si presenta con un rap ben poco futuristico e piuttosto cringe. Il suo nome è ALB. I vari sventurati vengono smistati a sorte nelle stanze, due per ogni stanza, e si conoscono meglio a vicenda. Ma a me vi giuro che non mi interessa niente di quello che si dicono, perciò lagna movie. Finalmente sembra accadere qualcosa. Jay sente qualcuno avvicinarsi al suo letto nel cuore della notte. Ne segue una rapida colluttazione, ma l'aggressore scappa via prima che lo si possa identificare. Ovviamente ne seguono una nuova lite tra loro e le conseguenti lagne. 40 minuti sono ancora tutti vivi, quasi quasi provvederei con le mie mani arrivati a questo punto. Jay sente un rumore ed è convinto che i suoi colleghi siano andati lì per trovare Shona e riportarla al gabbio. Così si avventano sulla porta disperatamente, cercando di fare quanto più rumore possibile, ma è tutto inutile. E Jay cosa fa? Spreca quattro proiettili sparando in aria. Fa cappellate su cappellate, lagne e cappellate, cappellate e lagne. Ne seguono scene di disperazione, una aberrante scena di consolazione durante la quale cercano conforto nell'alcol, nella musica e nella preghiera. E il marito di Cinzia, Francis, si allontana per rompere una bottiglia di vetro e farne delle specie di coltelli. Tornando nella sala da ballo, trova Albie provarci con sua moglie. Ne segue una colluttazione, ma a rimetterci le penne è proprio Cinzia, che viene spinta via e inciampa cadendo di testa sul parapetto. Non esattamente il tipo di trapasso che mi sarei aspettato, ma almeno dopo 50 minuti di film iniziamo. Veramente non saprei da dove cominciare, si sarebbe potuto evitare in tanti di quei modi. Mio caro Albie, che adesso chiameremo per comodità Albano, con tutte le donne singoli presenti, perché provarci con l'unica che sai per certo essere sposata? Secondo, siete in una situazione assurda, davvero pensate di far festa? Terzo, la distanza tra il divano e il parapetto è enorme, come accidenti ha fatto ad arrivare fin lì per smattere la testa? E quarto, Cinzia, non potevi sapere di star per fare una fine così idiota, ma per tua informazione, se vuoi separare due persone che litigano, è meglio frapporre qualcosa tra loro, sia pure il tuo corpo, invece di restare dietro l'aggressore. Ciò per cercare di farlo ragionare ed evitare come è successo colpi accidentali del genere. Oral B viene messo in isolamento nella sua stanza, il cibo scarseggia, il prete mosso a compassione ne porta un po' al prigioniero, il quale ne approfitta per prendere una spranga e colpire il poliziotto carceriere che viene colpito a morte. I presenti sono tutti inorriditi e l'unica cosa che sentiamo è il fastidiosissimo pianto di Lea, che pare non saper fare altro che questo. Nessuno interviene di fronte a quella furia. E che dire, DJ? Hai una pistola, fino adesso hai usato sei o sette colpi e non la usi proprio quando la dovresti usare? Non la usi? Ah, che boccalone! Una volta compreso che il prete stava andando a sfamare Albano, potevi perfettamente rassegnarti a aspettare che tornassi al tavolo. Ma no! Tu dovevi fare il robocop della situazione! Bravo! Ti sei guadagnato un elogio funebre e la candidatura al boccalone d'oro di oggi! L'uccisione è stata osservata dall'alto e a quanto pare è anche premiata, dato che il cibo è molto di più adesso. E anzi, c'è anche del vino! Francis sembra aver perdonato rapidamente Albì e gli porta la sua porzione di cibo. Ma secondo me sta chiaramente tramando qualcosa. Sarà lui il serial killer della situazione? Ci scommetto due gattini mannari! Adre Michael, ora possessore della pistola, si reca con Lea nella stanza di Albano, trovandolo impiccato con la cheffia dello stilista. Ma chissà chi sarà mai stato. Ovviamente riprendono ad accusarsi a vicenda, ma c'è un modo veramente molto semplice per capire se si sia ucciso da solo o se sia stato ammazzato. Ovvero aspettare! E infatti il rapitore li premia quando vede un'uccisione, no? Quindi perché affannarsi? Ma ovviamente il buonsenso e la logica non stanno di casa, perciò impazza la follia. Shona e Claire litigano e la modella tennista ne approfitta per conficcare un cavatappi nel collo di Shona che schiatta. Contemporaneamente Lea si sta lavando la faccia quando viene sorpresa da Francis, ormai più fuori di un balcone, che la folgora staccando una lampada e buttandola nel lavandino. A quanto pare mi sbagliavo su Lea. Ha! Addio anche a te. Michael prova a farsi alleato lo stilista, ma i rumori lo distraggono e viene aggredito da Francis, ritrovandosi costretto a sparargli per poi sparare anche allo stilista che ha aggredito Claire. Insomma, in questi minuti succede un delirio e non ha neanche senso pensare a tutti i vari come sconfiggere, perché come ho detto all'inizio, l'unica cosa da fare sarebbe stata rimanere tutti insieme senza dividersi. Ma perché nessuno ha pensato di utilizzare la spranga per cercare di sfondare la parete di mattoni? Il metallo è più duro dei mattoni. Avrebbero potuto fare a turni o provare a smontare pezzo per pezzo l'hotel al fine di ottenere e combinare nuovi materiali a questo scopo. Ma una cosa interessante in realtà avviene. Lea riviene. Ops, non era morta. Ciò significa che avevo ragione io. Vediamo come procede. Procede che padre Michael viene colto alle spalle da Francis che lo pugnala, prende la pistola, fredda Claire e poi finisce anche il prelato. Sono rimasti in due. Il compositore di sonetti funebri e Lea, la quale ha il vantaggio della plot armor a questo punto. Francis sarà convinto di aver vinto ma Lea ha trovato per caso il nascondiglio delle lame di vetro. Come finirà? Francis sente un rumore, corre verso la fonte e trova Lea, la quale ha in mano il coltello di vetro ma preferisce correre via per nascondersi sotto un letto, mettendosi praticamente in trappola da sola. Francis la scopre ma invece di lanciare via la rete del letto prova a prenderla attraverso di essa finendo col farsi pugnalare alla gamba. Riprende la fuga e non si sa come pur avendo un proiettile in corpo e una ferita alla gamba Francis sembra stare benissimo. Raggiungendo di nuovo la fregnona insopportabile Lea, avventandosi su di Lea e facendo precipitare entrambi sul tavolo della stanza da pranzo. Luogo in cui rimane infilzato dal coltello della ragazza. Oh, abbiamo una vincitrice! Le porte si aprono, di fronte a lei un corridoio luminoso, metafora di una nuova vita gioiosa, serenità e psicoterapia a vita associata a una terapia farmacologica per contrastare i traumi subiti. Un borsoni al suolo, metafora di una ricchezza spirituale e d'animo, oppure metafora di un accidenti di niente. Sono semplicemente 25 milioni di dollari. Finalmente siamo giunti alla fine di questo strazio cinematografico, Boccaloni! Voi come avresti sconfitto questa minaccia? Onestamente questa volta la vedo molto difficile, ma fatemelo sapere nei commenti. Se apprezzate questo lavoro mentalmente debilitante, potete sempre lasciarci una mancia movie per rinvigorire il martoriato spirito dei mangi aiutanti e cambiare la lettiera ai gattini mannari. E poi perché no? Abbonatevi per aggiudicarvi questi fantastici sticker per potervi freggiare con i vostri amici del supremo titolo di Boccaloni Recluta. Cosa dite? Non ci avete una lira e non potete fare una donazione? Beh, almeno iscrivetevi, mettete like e lasciate un bel commentino. E poi dite a tutti quanti di venire a guardare i video del Mangiamovie. Almeno questo lo potete fare? Bruttissimi Boccaloni squattrainati! Ora vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo fantastico video del Mangiamovie perché il video è sempre fantastico anche se spero che il film faccia un po' meno schifo e come sempre vi consiglio di non mancare. Altrimenti i prossimi a guardare un film disgustoso, schifoso, orribile, mamma mia, sarete voi. Mangiamovie non ha assegnato il Boccalone d'Oro oggi? Ma lo sapete che il Boccalone d'Oro può anche essere assegnato nella scena post-credit, vero? Quindi vi tocca rimanere sempre fino alla fine perché potrebbe essere ma anche no, di solito no, ma certe volte sì e oggi a certe volte. Poi nei migliori concorsi il premio viene sempre assegnato alla fine e quindi oggi il Boccalone d'Oro va a... Jay! L'avevo già accennato ma per quanto anche gli altri personaggi siano stati particolarmente avventati nessuno ha superato la Boccalonaggine del poliziotto. Ma non è finita qui. Voi che avete visto il film sapete cosa succede quando Lea finisce il percorso che la porta alla fine del tunnel? Una porta si spalacca, una stanza tale quale all'ingresso da cui è venuta l'accoglie. Di fronte a lei alcuni individui emaciati, smonti e sporchi di sangue abbracciano ognuno un borsone identico a quello che lei stessa ha raccolto poco prima. L'incubo non è ancora finito. Ah, purtroppo. Oh, santo Piripillo, questo film mi ha frantumato così tanto le cosiddette palle di pelo che non ho proprio voglia di dirvi niente adesso. Vi metto solo i soliti due video qua e vi dico di andarveli a vedere un trilione di volte. Ma voi fatelo lo stesso, eh? Altrimenti sono gatti vostri.